ciao questa volta ho scelto di fare una semplice copertura ma con un piccolo trucco le unghie erano deboli in punta così dopo la preparazione meccanica e chimica ho usato acrylic gel per rinforzarle e perfezionare la loro forma senza nel forma il trucco e non esagerare con il prodotto e levigarlo con la lima a questo punto creo la mia struttura ho scelto il gel master 3 per la sua coprenza e viscosità con il buffer levico la superficie e posso subito passare al decoro con il gel polish creo la mia cornice poi sigillo utilizzando matt top infine sgrasso con art gel e un pennello liner creo le mirine e prima di sigillare faccio cadere la polvere qui ho usato la clear e sull'altro dito la polvere di stelle polimerizzo e spolvero l'eccesso ora tocca a te crea la tua nail art e tagga la nostra pagina